Io mi rivolgo a chi oggi inizia questa avventura del semestre europeo. Al di là di tutti i paroloni che si fanno, facendo anche il sindaco, vedo la gente tutti i giorni che mi chiede aiuto, che chiede delle risposte sia alla mia città, alla mia nazione, l'Italia, ma anche all'Europa. Ebbene, abbiamo visto in questi anni quante volte la gente è diventata più povera, le politiche europee l'hanno fatta diventare più povera. Allora io le dico, facciamo una cosa molto concreta. Lei lo sa che in Europa negli ultimi mesi e negli ultimi anni è diminuita la possibilità di mangiare la carne, mentre è aumentata l'acquisto delle uova perché è molto più economico. Allora forse qua dentro nessuno capisce che cosa sia la carne. Queste sono due fettine di carne. La gente europea, milioni di persone, non riescono più a mangiare questo perché è diventato un miraggio, perché non ci sono i soldi. In compenso mangiano solo uova. Allora fate la politica per i piccoli, aiutate le famiglie, aiutate la gente che non ha la possibilità di comprare neanche più le fettine di carne e facciamo in modo che le uova vanno bene consumate. Grazie, collega Plura.